L'università è da lungo tempo impegnata per rinnovare la memoria di persone che con grande senso civico hanno dedicato la propria vita nella lotta contro la criminalità mafiosa e nello stesso tempo credo che sia un obbligo doveroso per l'Ateneo far sì che il messaggio di queste persone venga in un certo qual modo demandato e fatto proprio dagli studenti perché compito dell'università non è solo quello di formare sotto il profilo professionale le nuove generazioni ma anche di creare nelle nuove generazioni una cultura della legalità, un senso dello stato e dell'istituzione e naturalmente ricordare l'azione eroica di queste personalità come appunto quella di Mario Francese credo che possa essere particolarmente utile a questo film.